Mentre Angela Merkel, la donna che la rivista Forbes ha inserito dal 2006 al 2019 tra le 100 donne più potenti del pianeta, si è presto a lasciare a settembre di quest'anno l'incarco di cancelliera della Repubblica Federale Tedesca che detiene dal 2005, qual è la situazione delle donne al potere del mondo? Ai primi posti, nella classifica delle donne al vertice del potere politico, nell'Unione Europea troviamo i paesi del nord, Estonia, Lituania, Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca e fino a settembre 2021 la Germania. A destra c'è la Slovacchia e fra i paesi candidati all'ingresso nell'Unione la Georgia. Fra le donne premia, l'ultimo in ordine di tempo è Kaja Kallas, la prima donna a guidare un governo in Estonia, prima solo paese al mondo, ad avere affidato la leadership politica a due donne, l'altra è il capo dello Stato, Kresti Kaliulajd, presidente del paese baltico dal 2016. Accanto a loro, dal 6 febbraio 1952, Elisabeth II, la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del nord e degli altri 15 paesi del Kamen. Secondo dati del 2019, al Parlamento europeo siede il 36% di donne, mentre tra i 27 paesi dell'Unione e il Regno Unito solo il 14,3% dei premier è donna, mentre tra i presidenti la quota sale appena al 21,4%. L'Europa conta un 30% di ministri donne, contro il 19% su scala mondiale. Su scala globale, su circa 200 paesi, solo 20 sono guidati da capi di Stato donne. Nel sud del mondo, le donne alla guida dello Stato sono in Bangladesh, nel Myanmar, dove la storica leader birmana Aung San Suu Kyi, 75 anni, è confermata al potere un anno fa con regolari elezioni democratiche e oggi si trova agli arresti domiciliari, dopo il sanguinoso colpi di Stato militare del 1 febbraio scorso, nel Nepal, a Singapore, mentre la Nuova Zelanda ha confermato per un secondo mandato lo scorso novembre la popolare prima ministra Yassine D'Arden. In America centrale troviamo due donne leader, a Trinidad de Tobago e in Nicaragua, in Africa l'unica donna capo di Stato in carica e in Etiopia, eletta nell'ottobre 2018, in Togo lo scorso ottobre è stata nominata la prima premier donna, Victoire Tomega-Dobè, 60 anni, in Gabon il primo ministro donna è Ros-Christian Ossouk, 56 anni, mentre Rwanda si distingue per la presenza del 56% di deputati donna in un Parlamento che è il primo al mondo per numero di presenze femminili. Di questi giorni è il caso della Liberia, dove le donne hanno lanciato la campagna Lapa Revolution per portare gli uomini a correggere gli squilibri di genere nelle strutture di potere del paese. Per concludere con Kamala Harris, prima vicepresidente degli Stati Uniti, un fatto che segna un cambiamento importante nel paese in cui è iniziata la lunga lotta delle donne per affermare i propri diritti e l'importanza del loro contributo nella società.